Sul Berga YouTube continua la pubblicazione dei video in soccorso o a sostegno delle studentesse e degli studenti che affronteranno l'esame di stato al liceo classico, in particolare la seconda prova che, come ormai è stato dichiarato, riguarderà l'avversione dal greco. Un passo di Luciano che continua la serie di video dedicati a quest'autore che è tra quelli che potrebbero essere presentati all'esame di giugno perché già è successo in diversi anni, diverse volte negli anni passati. Il passo è tratto dall'opera Dialogo dei morti e riguarda un discorso, un passaggio di Annibale di fronte a Minosse. Partiamo come sempre dall'identificazione dei predicati verbali, utilizziamo il colore verde, abbiamo Femi che è un presente indicativo, abbiamo Einai che è un infinito, Femi vale come dichiarare, anche pensare, quindi c'è una proposizione oggettiva che partirà da qui, la segniamo diversamente, da Tutus come soggetto a Einai come predicato verbale. Dopodiché abbiamo un Hozoi che introduce una proposizione relativa, il cui verbo è questo Proecoresan. Riconosco un allungamento, un Sigma, Za, quindi è una terza persona plurale dell'auristo primo sigmatico, è un indicativo perché anche l'aumento. Il verbo è Procoreo, quindi questa eta è un allungamento dell'epsilon e poi abbiamo ancora prima Ontes, participio presente di Eimi e poi Peribalomenoi in cui riconosco una forma di participio auristo, secondo medio di Periballo e ancora Doxantes che è un participio auristo, in questo caso abbiamo a che fare con un auristo primo sigmatico, il verbo è Docheo in cui nel presente questa epsilon è un'aggiunta, in realtà il tema è questo, infatti fa Docheo Dox e poi Edoxa e anche questo è un participio auristo primo sigmatico, nominativo plurale maschile. Bene, ripartiamo da sopra, occupiamoci ancora di alcuni elementi interessanti, allora questo Hozoi abbiamo detto che è una proposizione relativa, abbiamo Tutus e poi Hozoi e questo Hozoi relativo all'antecedente in questo Tutus, quindi il senso è Femi, dichiaro, oppure anche Penso, considero, che Tutus Einae Axius è il mio predicato nominale, essere degno e poi Axios vuole il genitivo degno di lode e Malista è un avverbio. La nostra traduzione è Penso che Costoro soprattutto Einae Axius e Painu siano degni di lode, Costoro quanti, poi potremmo semplificare dicendo coloro che, semplicemente, il verbo è questo Proechoresan da Prochoreo che significa procedere, avanzare, ma l'espressione che trovi sul dizionario Epimega Prochoreo significa procedere verso grandezze, quindi diventare molto potente, quindi i quali o quanti diventarono oppure diventano molto potenti e questo HOMOS significa tuttavia, pertanto sono portato a ritenere che ONTES, participio congiunto, abbia un valore concessivo e allora possiamo tradurlo in prima battuta col gerundio. Attenzione, l'espressione Einae To Meden, che è questa, significa essere una nullità, valere nulla, Exarchesi invece significa dal principio. Quanti, essendo nulla in principio, vale a dire, sebbene non valgano nulla agli inizi, tuttavia Proechoresan diventarono molto potenti DIA AUTON, anzi DI AUTON DYNAMIN, questo AUTON è riflessivo, DIA con l'accusativo, possiamo renderlo con grazie, grazie alle proprie risorse, poi c'è un TE che andrebbe messo prima, vale come CAI, e abbiamo a che fare con questi due participi. PERI BALLOMENOI, PERI BALLO significa eccellere, essere superiore, al medio vale come impadronirsi e ottenere, ma ci manca un complemento, se procedo c'è quest'archè che vale come potere. E allora potrebbe essere la traduzione, avendo ottenuto E DOXANTES, essendo sembrati degni del potere. Dobbiamo naturalmente riformulare. Dunque partiamo dall'inizio, penso che soprattutto siano degni di lode coloro che pur non valendo nulla all'inizio, o essendo una nullità, tuttavia avanzarono, oppure avanzano, nel senso che, dato il tenore della frase, questo potrebbe intendersi come un auristo gnomico, pertanto si traduce come presente. Quindi tuttavia acquistano o diventano anzi molto potenti, grazie alle loro risorse, ottenendo e sembrando degni del potere. Alla fine archè viene legato sia per i balomenoi che DOXANTES. Anche in questo caso per i balomenoi e DOXANTES possiamo intenderli sia come passato che come presente, ma aggiustiamo il tiro di volta in volta, nel senso che il participio auristo, al pari dell'infinito, può o meno valere come tempo storico. Tuttavia sono diventati molto potenti, grazie alle loro risorse, ottenendo e sembrando degni del potere. Possiamo anche tradurlo col presente, che va benissimo. Si prosegue quindi sempre con i predicati verbali EXORMESAS, ZA, è la ETA lungata, il verbo è EXORMAU, ancora un participio auristo maschile nominativo singolare, EXORMAU significa partire. Poi c'è ONN, che è un participio presente di essere. Abbiamo EXIOZEN, in cui questa è un allungamento di un omicron, questo ZETA, ETA è il suffisso del passivo e questo è l'aumento, il verbo è AXIO, e questa è una prima persona dell'auristo passivo debole. Poi abbiamo CRIZEIS, che anche è una forma di passivo, perché il participio auristo passivo è CRIZEIS, CRIZEISA, CRIZEN. Il verbo di partenza è CRINO, l'auristo di crino passivo è ECRIZEN. E a questo punto dobbiamo considerare che abbiamo dunque due participi auristi, proseguendo abbiamo HEILON, che è l'auristo secondo di HAIREO, ECRATESA, che è da CRATEO, auristo primo, entrambe sono delle prime persone singolari dell'indicativo. Poi abbiamo HYPERBAS, la forma del verbo semplice è BAS, BASA, BAN, questo è l'auristo, è un participio auristo terzo di HYPERBAINO, il significato è superare, quindi superando oppure avendo superato. E poi abbiamo CATEDRAMON, che è sempre una prima persona dell'auristo secondo, e dobbiamo ricordarci che EDRAMON è l'auristo secondo del verbo politematico TRECHO, correre, e quindi è TRECHO che fa DRAMUMAI, EDRAMON e poi DEDRAMECA. Ritorniamo sopra, occupiamoci di alcuni elementi particolari, allora intanto abbiamo questo EGOGE, quindi io stesso, proprio io, un dunque, EXORMESAS vale come partire, quindi partito, EISTEN IBERIAN per l'IBERIA, METOLIGON, META col genitivo CON, quindi potrebbe essere con pochi mezzi, con poche risorse, riprende un po' quanto aveva detto all'inizio, essere una nullità, e poi abbiamo TO PROTON, in un primo tempo, ON I PARCOS, essendo sottoposto, o meglio, essendo luogotenente, TOA DEL FO, DEL FRATELO, quindi essendo luogotenente, oppure come luogotenente di mio fratello, e poi arriva la proposizione principale, il verbo principale, anzi, EXIOTZEN, MEGISTON, dove MEGISTON è un superlativo di MEGAS, che fa MEGAS, MEGALE, MEGA, e poi abbiamo MEIZON al comparativo e MEGISTOS al superlativo, questo va inteso come una forma di superlativo, ed è un aggettivo sostantivato, neutro, quindi di, fui degno, fui ritenuto degno MEGISTON, degli onori più grandi, CRIZEIS ARISTOS, a sé, essendo stato giudicato il migliore, ARISTOS è un altro superlativo, uno dei superlativi di AGASSOS, nella seconda forma, e aggiunge E, il TE diventa CAI, e significa che E, SIA VINSI I CELTIBERI, o CELTIBERI, SIA ECRATESA GALATON TON ESPERION, SIA E SCONFISSI I GALATI E OCCIDENTALI, questo significa, IPERBAS come complemento oggetto a TAME GALA ORE, ORE DATO OROS, TU ORUS, il monte, quindi, avendo superato i grandi monti, si intende i monti della catena alpina, avendo superato le Alpi, che cosa fa? CA TEDRAMON, da CATATREJO, il significato è assalire, saccheggiare, fare incursioni, e quindi, feci incursioni o assalì, che cosa? E il complemento oggetto è qui, è TA HAPANTA, cioè, feci incursioni in tutti i luoghi, in tutti i territori, intorno al Po. L'ERIDANO è il nome antico del Po, e quindi significa che feci incursioni per tutta la pianura padana. Ecco, questo era il lavoro di oggi, questo è il terzo video dedicato a Luciano, se il lavoro ti è parso utile, data l'urgenza di giugno, ti invito a dare visibilità ai miei video e a condividerli con i tuoi compagni. Intanto ti auguro un buon lavoro e alla prossima!